Il sistema manifatturiero abruzzese conferma un andamento migliore della media nazionale con valori per tutti gli indicatori economici, compreso l'export positivi. Buone notizie arrivano anche quest'anno dunque dal rapporto sull'andamento del manifatturiero abruzzese relativo ai dati del 2018 messo a punto anche quest'anno da un lavoro congiunto tra Cresa e Confindustria Abruzzo. Lo studio è stato presentato questa mattina nella sede della Camera di Commercio all'Aquila, dati che fanno ben sperare. Cresce ad esempio del 3,4% il fatturato, la produzione aumenta del 3,3%, l'occupazione del 2,2%. A trainare l'economia, ancora una volta l'automotive, resta invece indietro il processo di digitalizzazione delle imprese. Sul campione delle 201 intervistate, più della metà non ha neanche intrapreso il percorso. Noi abbiamo un percorso lungo di crisi che ci ha impedito di realizzare sviluppo negli anni, ormai è una crisi che dura da 10 anni. Il dato invece confortante che rileviamo tra, mettendo a confronto il 2017 e il 2018, è che nel 2018 abbiamo realizzato in effetti delle performance importanti. Registriamo una crescita media del 3,3%, sia in termini di produzione che di fatturato e che di esportazione. Ritorniamo all'automotive che fa, come abbiamo visto nell'approfondimento dei dati, la maggioranza delle nostre esportazioni. Quindi è un settore importantissimo, concentrato ahimè in un'area circoscritta, ma soprattutto sulla base di poche imprese. E quindi c'è necessità invece di ampliare questo ventaglio di produzione, anche in altri territori e anche magari su più imprese. Fanalino di Coda resta l'intera provincia dell'Aquila, nei confronti della quale esprimono preoccupazione soprattutto i sindacati, con Rita Innocenzi, della Cigelli Abruzzo e Clara Ciucca, della UIL. Si parla del Fanalino di Coda addirittura anche per quanto attiene all'innovazione e alla digitalizzazione. Considerato che l'Aquila su questo ha investito molto in questi ultimi anni, e che molti dei progetti ai quali si fa riferimento e che abbiamo molto condiviso fanno riferimento appunto alla città dell'innovazione e della conoscenza. Noi abbiamo una sofferenza enorme, non abbiamo nuove aziende oltre l'accord, non abbiamo assunzioni grosse, abbiamo tante speranze che non si sono realizzate, tante belle parole, ma la realtà abbiamo una sofferenza sull'occupazione enorme, soprattutto per chi ha dovuto lasciare il mondo del lavoro.